Ci troviamo presso il castello Angioino Aragonese per l'evento Arte e Solidarietà Viaggio all'Inferno con Modestino Rosillo. Questa serata è una serata dedicata alla solidarietà, quindi questo è il secondo anno che il Comune di Agropoli, insieme alle associazioni territoriali che da sempre si occupano di sociale e che quindi hanno costituito una rete territoriale, per il secondo anno hanno organizzato questa serata di beneficenza. I proventi della serata quest'anno verranno devoluti alla Croce Rossa italiana, sezione di Agropoli del Cilento. Ringraziamento per questa serata speciale, sono riusciti a coniugare due termini che oggi purtroppo sono in disuso, l'arte e la solidarietà. In questo mondo ormai disumanizzato non c'è più la sensibilità. Questa sera grazie a Vanna e a Rienzo che è sempre accanto a noi della Croce Rossa, a noi volontari e al ritorno di Modestino Rosillo con grande orgoglio dico grazie. Grazie da parte della Croce Rossa ma della comunità perché questi fondi che verranno raccolti stasera andranno per la comunità. Com'è tornare dopo tanti anni sul palcoscenico? È difficilissimo, ci vuole molta forza, molto allenamento, però è sempre un'emozione bellissima calcare il palcoscenico, è un'emozione, un'adrenalina indescrivibile. L'impegno c'è stato al massimo, la gente ha risposto, è chiaro che si tratta di una forma di spettacolo impegnativo, non comico ovviamente, però la gente ha ascoltato, ha seguito con attenzione, non ci sono stati momenti di confusione, anzi molto silenzio in sala proprio perché la gente era attenta. Sicuramente è un'importante iniziativa questa messa in atto dal nostro assessore alle politiche sociali, da Rienzo, dall'amministrazione con la maestria, l'impegno, l'entusiasmo di Modestino Rosillo che non ha bisogno di presentazioni, ma soprattutto grande e nobile è la finalità della manifestazione, cioè fornire un aiuto concreto alla Croce Rossa italiana nella sezione di Agropoli che tanto opera in favore della nostra comunità. Ma credo sia stata una bellissima serata per due motivi, il primo, quello più importante per questa serata dedicata alla solidarietà, visto la partecipazione di tanta gente, poi un secondo motivo abbiamo assistito a una splendida rappresentazione da parte di Modestino Rosillo della Divina Commedia, devo dire, veramente è un pezzo pregiato, mi permetto di dire, a lui faccio i complimenti perché insomma dopo tanti anni ritorna sul palcoscenico, ma devo dire che non ha perso la passione e le capacità. Una serata sicuramente di divertimento ma legata alla solidarietà che fa bene sicuramente a tutti, Modestino ha avuto una brillante idea, abbinare la cultura, una serata estiva di divertimento, di stare insieme ma abbinata anche alla solidarietà, quindi alla Croce Rossa, una cosa utile a tutti, quindi un modo per fare del bene, per stare insieme e per passare una bellissima serata. Da un fulgore che in sua voglia venne all'alta fantasia qui manco possa, ma già volgeva il mio disio e il velle, siccome rota, che ugualmente mossa, l'amor che muove il sole e le altre stelle. Bravo!